Rientrata nel giro di poche ore la polemica sull'emergenza incendi tra i vigi del fuoco della funzione pubblica CGL e la regione Abruzzo. Gli incendi che stanno devastando l'Abruzzo avevano accusato in una nota congiunta il segretario generale della CGL Abruzzo, Sandro del Fattore, e il segretario di L'Aquila, Umberto Trasatti, mettono a nudo la fragilità del nostro sistema di protezione della natura e della incolumità dei cittadini. Gli interrogativi sono tanti, la domanda ovvia è se si sta facendo il possibile per spegnere le fiamme, se tutto questo si poteva evitare o se si poteva fare di più e meglio. Affermazioni che avevano stupito e irritato il sottosegretario con delega alla protezione civile Mario Mazzocca, che aveva invitato i due sindacalisti a meglio informarsi sul lavoro svolto dalla regione. Polemica subito smorzata, come ha dichiarato lo stesso Mazzocca. Una piccola polemica che è stata chiusa immediatamente, tant'è che poi sabato parteciperemo insieme a una manifestazione proprio di sensibilizzazione proprio su questo tema. Io credo che comunque ciò che sta attraversando l'Abruzzo in questo periodo, ma possiamo dire l'Italia in quanto diverse regioni, alcune delle quali con situazioni estremamente critiche, probabilmente più problematiche di quelle che stiamo vivendo noi qui in Abruzzo, credo che abbia una natura di eccezionalità particolare, nel senso che ormai essendo fuori da ogni dubbio che la stragrande maggioranza di questi incendi ha una origine dolosa, evidentemente c'è qualcosa che insieme a soprattutto le autorità competenti, ma anche noi dovremmo capire fino in fondo per andare ad analizzare quali sono state le motivazioni, le cause scatenanti di questo massiccio attacco al nostro territorio e quindi allo sfacero a cui stiamo assistendo del nostro patrimonio naturale. Per quanto riguarda l'impegno della regione, sono stati in molti, soprattutto il forum H2O, a ribadire che la regione Abruzzo avrebbe dovuto essere più lungimirante e dotarsi di una propria flotta per affrontare gli incendi. Invece ad oggi sono oltre 80 comuni coinvolti in incendi dolosi e migliaia gli ettari di bosco e vegetazione divorati dalle fiamme. Mamma Zocca cerca di difendersi con numeri e mezzi messi in campo. Noi abbiamo messo in campo tutte le nostre forze, le abbiamo anche implementate rispetto agli anni precedenti. Sono 2000 uomini in campo fra lotta attiva agli incendi e presidio notturno, vigilanza notturna. Abbiamo sottoscritto due convenzioni con i vigili di fuoco per la conduzione diretta dell'attività dell'anticendio boschivo, così come diceva la legge. Andando a interpretare poi alcuni passaggi della medesima, abbiamo prima regione d'Italia fatto una convenzione proprio con i carabinieri forestali per l'attività di prevenzione di repressione.